C'è un fantasma che aleggia sui trattori da vigneto e da frutteto, si chiama elettrificazione. Un fantasma che si pone con un abbrivio omletico. Meglio seguire il trend dell'elettrificazione spinta sulla falsa riga di alcuni IEM del movimento terra con le mini pale e i mini escavatori? Oppure sposare l'ibridizzazione, che per esempio sui sollevatori telescopici sta attingendo a una riserva fertile e parzialmente insospettata? Dico insospettata perché il sollevamento si presta alla colonizzazione da parte del full electric. Che sia per il rapporto di familiarità con i caricatori frontali, per la natura dei cicli di lavoro o per l'esigenza di lavorare anche all'interno, quindi possibilmente a emissioni zero, ci saremmo aspettati una rapida e univoca migrazione verso le batterie. Il diesel elettrico invece manifesta segnali di resilienza, pare a tecchire tra i telescopici e, nell'ultimo biegno, tra gli specializzati. Possono dunque essere i trattori al di sotto dei 100 kW all'applicazione elettiva del pacchetto ibrido? Grazie a tutti.